esaminiamo c'è un pollo c'è un materasso, un letto qua chiudiamo la missione del letto ma non ci basta topo ho sbloccato la forma del topo con il morso vai a segno con i tuoi dentini ripristina 5 mana e accumula 15 veleno quando colpisce fruga fra i rifiuti gli oggetti salute fanno recuperare anche 8 mana e posso diventare un topo? riscattare il missione nel comodo per ricevere stelle